I segni d'aria inizia una nuova fase per i gemelli, una nuova fase della loro vita, un modo e una voglia di vivere, di fare, di progettare del tutto nuovo. I cambiamenti sono in arrivo, affrontateli con decisione, con determinazione, che ultimamente lasciavano a desiderare. Bilancia, mese difficili, pieni di insidie, di cose inattese. È arrivato il momento di riorganizzare la vostra vita, basta con le indecisioni. È arrivato il momento delle scelte e dei tagli. Non abbiate paura, siete in grado di affrontare e risolvere. All'acquario mettiamo da parte malumore, incomprensioni. Le cose non vanno come voi vorreste. Controllate le vostre azioni, le parole. Potrebbero creare situazioni ingestibili. Calma e pazienza. Arriveranno momenti migliori.